guardate cosa vi propongo oggi arista questa sono circa 7 etti di carne l'ho tagliata a fette senza separarle perché la dobbiamo riempire la imbottiamo con che cosa cipolla patate e mela mi piace l'idea ok allora prepariamoci quindi saliamo pepiamo mettiamo la paprika sulla carne sì paprika sale pepe un po di timo fresco che ci sta benissimo con la carne di maiale e massaggiamo la carne che serve proprio per l'aglio fresco scusate l'aglio fresco è che io prima faccio il video e poi la registrazione quindi mi devo ricordare tutti i passaggi quindi massaggiamo la carne perché perché così trasferiamo tutto tutte le nostre spezie in tutte le fette ok poi ho tagliato le patate appunto a fette e le cipolle e quindi ho messo il sale anche qui paprika pepe aglio gli stessi ingredienti che ho messo nella nella carne li mettiamo anche nelle appunto nelle patate così che non litigano durante la cottura l'aglio fresco e in più però ci mettiamo anche il rosmarino perché sulle patate mi piace il rosmarino è una spezia che mi piace sulle patate ok poi una volta aver messo il rosmarino abbiamo mischiato per bene iniziamo a riempire la carne ho già tagliato a fettine la mela io l'ho sbucciata voi potete anche metterla con la buccia non c'è problema quindi vedete mettiamo una fetta di patata cipolla e mela e tutte così ok quindi mela patata cipolla finché la imbottiamo per bene e deve risultare più o meno così io avevo anche un paio di funghetti l'ho tagliata a metà gli ho fatto una guarnizione ma così è giusto perché mi piaceva l'idea ancora paprika sopra solo che ahimè quando ho iniziato a vedere la tele ho detto opa adesso io la metto in forno mi si secca tutta perché senza niente sotto e quindi mi è venuta l'idea perché io sono così sono quella delle idee dell'ultimo minuto ho detto ma perché non la metto al cartoccio guardate quanto era bella e quindi quasi distrutta no non l'ho distrutta l'ho presa piano 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 l'ho trasferita nella carta da forno quindi una parte che rimane sotto la carta da forno no quindi cerchiamo di ricomporre io cerco di ricomporla voi invece non fate il mio stesso errore prendete subito la carta forno e poi un altro foglio glielo avvolto sopra che sarà quello che poi quasi a cottura ultimata toglierò così i succhi rimangono in quella di sotto sono stata chiara a volte non mi capisco da solo va bene poi ho preso una manciata di pomodorini che mi servirà da termometro quindi li ho aperti li ho messi di lato con origano e sale perché da termometro intanto scaldiamo il forno a 220 gradi sì perché quando il pomodoro sarà con per quasi completamente secco vuol dire che la carne è pronta provate poi vedete quindi si toglie la carta forno dopo averla fatta cuocere almeno 50 minuti è perché si deve cuocere il maiale va cotto bene ok poi togliamo la carta forno e la lasciamo finché fa quella gratinatura sopra beh non ci crederete in famiglia hanno gradito iuppa se hanno gradito a voglia e ho preso un po di tintingolo che era dentro la carta forno vedete la carne risulta morbida no stoppacciosa per niente proprio è morbidissima e poi ha un sapore buonissimo che vi devo dire dovete provare sembra complicato ma non lo è è molto semplice come ricetta io sono per le cose semplici fatemi sapere se vi è piaciuta ok ciao alla prossima